Calcio, la vigilia di Pescara Olbia, domani ore 20.45, gara a eliminazione diretta, tra poco ne parleremo, ma intanto calcio a mercato perché si complica la trattativa per il ritorno in Biancazzurro di Giuseppe Rizzo, classe 1991, c'è infatti il vieto posto dal tecnico della Triestina, tra l'altro un ex Cristian Bucchi, il club Biancazzurro aveva inserito nella trattativa Val di Fiori, al momento tutto fermo, ma il centrocampista siciliano che ha sposato tra l'altro una ragazza pescarese vuole fortissimamente il Delfino, si nutre comunque fiducia per Bucchi che ha allenato Rizzo proprio a Pescara nella sua primissima esperienza da allenatore, il giocatore non è in uscita, la situazione può cambiare da un momento all'altro vista la fortissima volontà di Giuseppe Rizzo di tornare a Pescara, insomma ribadiamo si nutre fiducia a tesi sviluppi nei prossimi giorni, la novità di oggi è un'altra, Galano infatti potrebbe restare, l'ex Foggia sembra essersi convinto, in questo caso cadrebbero le opzioni di cui abbiamo parlato in questi giorni, tra i quali c'è da includere anche Luca Clemenza, lo scorso anno al Sion e Borello, Giuseppe Borello classe 99 di proprietà del Crotone, ex Provercelli, però ieri abbiamo sentito anche Ursino di S. dei Calabresi che ha detto testualmente per ora non si muoverà da Crotone, tra l'altro il Crotone allenato quest'anno inserebbe dall'ex terzino fluidificante Mancino della Pescara, Francesco Modesto, intanto domani i Biancazzurri ospiteranno come detto di Anzi l'Olbia, le 20.45 primo impegno ufficiale della stagione, gara ad eliminazione diretta in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, Auteri recupera gli infortunati Giannis, Ferrari e De Marchi, tre pali potrebbe esordire Alessandro Sorrentino classe 2002 in grande evidenza nel test col Napoli, cui si riferiscono queste immagini di Gennaro arrivato da una settimana, infatti non è ancora al top per contro l'Olbia di Canzi e del presidente Alessandro Marino, Pescarese Doc, lo scorso anno i Sardi hanno sfiorato i playoff ma hanno battuto, si sono tolti lo sfizio di battere squadre importanti del Girone A come per esempio il Como che poi ha vinto il campionato 3-0 in casa, indisponibile palesi per squalifica, l'ex Cocco ha risolto il rapporto, da domani sarà un nuovo attaccante del Seregno neopromosso in Serie C, 4-3-1-2 il sistema di gioco, regia affidata all'Abruzzese di Casoli, Manuel Giandonato classe 91 ex Lanciano, trascorsi nelle giovanili del Pescara, un anno tra i giovanissimi, poi c'è anche l'italo-colombiano difensore Arboleda che ha militato nell'Aquila in Serie D stagione 2016-2017, due giocatori più rappresentativi di grande esperienza come Emerson classe 80, 41 anni, ex Livorno, Regina, Feralpi, Salò, tante altre squadre, Francesco Pisano 11 stagioni nel Cagliari classe 86, in attacco Ragazzu che ha giocato a Lanciano nel 2013-2014, soltanto 9 presenze con Baroni in panchina e l'italo-nigeriano Udo, scuola Juve, anche gli ex Lanciano ma senza collezionare presenze, da gennaio a giugno 2016 lo prese proprio l'ex DS Lanciano, attuale direttore sportivo della Ternana, Luca Leone.